Noi abbiamo un problema a Napoli nel mezzogiorno, quello di garantire il mantenimento di una presenza industriale qualificata, tanto più in un momento come questo nel quale si definiscono le strategie per far ripartire il Paese. Noi siamo convinti che le nostre aziende ancora presenti, soprattutto in settori come quello dell'aerospazio, a partire da DEMA, debbano essere sostenute con adeguati provvedimenti di politica industriale, che abbiano un respiro nazionale e che guardino però fortemente al mezzogiorno, sia sul terreno della qualità degli interventi, sia anche dell'attribuzione quantitativa delle risorse.